Diciamo che è arrivato il momento di spiegarvi perché non dovete acquistare Cricut Questo diciamo che è il motivo, questa è la Cricut EasyPress Mini Eccola qui, quando sono andata a prenderla per personalizzare un mio piccolo zaino L'ho accesa e fa praticamente questo Come vedete si accendono queste due riuscine e fa questo bip Lo fa per un po' e poi sospende Ok, tutto questo è successo così dal nulla, io l'ho presa, l'ho utilizzata, non l'ho utilizzo tantissimo Quindi l'ho usata veramente molto poco, l'ho accesa ed è successo questo Ho chiesto il vostro aiuto e molte di voi mi hanno detto contatta comunque l'assistenza Perché è un problema che è successo ad altre persone, vi cambiano la macchina Così ho contattato Nekyshop e Nekyshop mi ha detto Guarda, è fuori garanzia, io l'ho acquistata nel 2020 Pieno lockdown, non sapevo cosa fare, volevo personalizzare le mie magliettine Non possiamo fare niente ma ti consiglio di contattare Cricut L'assistenza Cricut è dagli Stati Uniti ma sappi che parlano italiano E secondo voi non sono andata a contattare Cricut? Certo che l'ho fatto Mando una mail e questo è quello che praticamente mi scrivono Sì il rivenditore ha ragione, mi dispiace ma la garanzia Ma senza la garanzia non possiamo sostituire la pressa Quindi vorrei aiutarla, se ne vuole acquistare una nuova Le posso in futuro inviare dei materiali Quindi mi volevano dare dei materiali, tutti devi comprare quella nuova Io con tantissima tantissima calma, salverosa Mi dispiace ma non ne voglio acquistare una nuova Se poi si deve rompere dopo pochi utilizzi Vorrei aggiustare la mia, è stata veramente usata Molto poco, grazie Ho mantenuto la calma raga Ed eccoci qua Salve cara che è già sul cara, vabbè Sono statunitensi Mi dispiace ma non abbiamo nessun centro di manutenzione E ancora con questo difetto di lampeggiore di rosso E fa anche un bip La macchina dovrebbe essere sostituita Mi dispiace di cuore se le vuole alcuni materiali Per compensare questo disturbo Ora, io che cosa me ne faccio dei materiali Se non ho la mia pressa Mi devo comprare un'altra pressa Se tu non hai dei centri Dove io posso andare ad aggiustarla Poi metti che magari non mi sarebbe convenuto Però io ho pagato 70 euro nel 2020 E l'ho usata tipo una decina di volte Non l'ho usata tantissimo Mi si rompe, non è in garanzia Quindi chi l'ha avuta in garanzia Chi l'ha usata, chi l'ha avuta in garanzia È stata fortunata Io non sono stata fortunata Mi dispiace ma io sono veramente poco propensa Ad acquistarne anche un'altra Perché se dopo qualche anno O dopo qualche utilizzo si dovesse rompere Non ci sono centri di assistenza Che me la compro a fare ragazzi Questa è la mia esperienza raga Chi si è trovato con la garanzia E ha potuto cambiarla Sinceramente magari ha fatto anche un affare Perché ha la macchina nuova Però io che dopo tre anni non l'ho potuto farlo Mi sento altamente fregata Pensateci prima di acquistare Cricut Io vi dico Con silhouette Queste cose non accadono C'è il centro assistenza Voi lo mandate nel centro assistenza E le cose ve le sistemano Alla prossima Grazie a tutti.